Io non mi occupo di arte, quindi il tema di questa sera, l'arte crea cittadinanza, è un tema molto stimolante e cercherò anche di dirvi perché dal mio punto di vista. Anche perché potremmo dire che in alcune circostanze la politica non fa molto per creare cittadinanza, si può forse dire che nel caso di quel quartiere è stata molto più efficace l'azione degli artisti che non quella della politica da questo punto di vista. Almeno fino a un certo punto, questo perché direi anche per inquadrare, vi do alcuni elementi di sfondo per inquadrare questa particolare presenza di migranti, di famiglie, di migranti cinesi, di lavoratori fondamentalmente, che si colloca nel cuore della Toscana. Peraltro anche qua c'è un tema che rimanda fortemente al ritardo della politica in questo ambito perché uno degli obiettivi della strozzina, leggevo oggi e per l'appunto un po' in ritardo sugli obiettivi che si pone la strozzina anche con questo tipo di iniziative, è proprio quello di entrare nei temi forti che riguardano la vita all'interno di una città, di un'area metropolitana come è questa. Per l'appunto se poi dobbiamo parlare di area metropolitana nei termini della politica, l'area metropolitana non comprende Prato per esempio, quindi comprende Borgo San Lorenzo ma si ferma ai confini della provincia. Quindi è un'area assolutamente legata a una definizione amministrativa che non ha nulla a che fare con i confini fisici della realtà territoriale che invece i cittadini di questa piana vivono quotidianamente. Quindi già questo è un tema che evidenzia un contrasto molto forte. Peraltro se noi dovessimo considerare la presenza delle famiglie di migranti cinesi nell'area metropolitana, forse saremmo senza dubbio la più alta area di concentrazione europea. Perché lo è Prato da sola ma come sapete bene l'area in cui i primi migranti cinesi sono arrivati non era Prato, in realtà sono arrivati in quel territorio di mezzo tra Prato e Firenze che era appunto San Donnino, tutta l'area intorno a Campi Bisenzio. Quindi se andassimo a sommare Prato e tutto quello che gli sta intorno e Firenze e tutto quello che gli sta intorno avremmo, anzi abbiamo, dei numeri ancora più alti. Quindi diciamo che intanto è un fenomeno che è cresciuto e che si è manifestato nei nostri territori in modo assolutamente indipendente da quello che potevano essere gli indirizzi strategici dei governi territoriali. Quindi da vari punti di vista. Quindi c'è intanto questo tipo di problema. Il secondo problema che si pone soprattutto nel caso Pratese dove questa presenza è fortemente concentrata e quindi diciamo per una forse è il caso più importante ma forse il caso più evidente anche in Italia di concentrazione di migranti in un quartiere. Quindi diciamo l'aspetto che assume quello che si chiama tecnicamente Macrolotto Zero ma insomma l'asse di via Pistoiese, via Filzi, quindi subito a ovest del centro storico di Prato. E' in sostanza uno di quei quartieri che non è nemmeno periferia perché in realtà basta superare la porta Pistoiese del 300 e dopo 50-100 metri ci troviamo all'interno di uno scenario che magari ricorda quello delle periferie di città americane o di città europee. Ma in quel caso diciamo si può più propriamente parlare di periferia quindi qui in realtà siamo in una sorta di periferia interna. Quindi questa concentrazione ha le caratteristiche di quello che in altri contesti sembra essere, pensiamo non so, ai quartieri fortemente caratterizzati dalla presenza afroamericana nelle città americane oppure dalla migrazione africana o giamaicana a Parigi o in Francia o a Londra. Quindi un quartiere fortemente caratterizzato da una presenza nuova e assolutamente però al contrario di tanti altri casi europei o americani che probabilmente hanno creato dei danni anche diciamo dei danni veramente come dire pesanti da un punto di vista sociale, politico e culturale. Basta pensare ai ghetti o alle banlie e così via. Ecco il caso della concentrazione pratese è per l'appunto un caso di concentrazione assolutamente non pianificata. Cioè questa presenza si è concentrata semplicemente in un quartiere che stava perdendo popolazione originaria perché si tratta di uno dei quartieri in cui è nata la specializzazione produttiva tipica dei distretti industriali, di quel distretto industriale in particolar modo. Quindi un'area diciamo mista come la definiva Bernardo Secchi era appunto il pianificatore, l'urbanista che ha lavorato nel piano urbanistico di Prato negli anni 90. La definiva appunto l'area della mixité oppure la definiva la città fabbrica. Proprio perché chi di voi c'è stato ma lo si vede anche nei quadri la morfologia di quelle strade è caratterizzata proprio dalla presenza di edifici residenziali e di edifici produttivi. Tutti molto mescolati talvolta anche con specializzazioni confuse nel senso che si vive negli edifici manifatturieri o si produce anche negli edifici che sono più caratterizzati da una destinazione residenziale. Quindi tutto questo si è sviluppato in maniera estremamente spontanea, fatto in base a transazioni tra famiglie, tra individui, tra persone e non certo perché in quell'area c'erano per esempio case popolari edilizia sociale. Per esempio un quartiere dove non c'è edilizia sociale, ce n'è veramente pochissimi casi. Al contrario di quello che accade per esempio nei ghetti, nelle banlie che sono fortemente specializzati e caratterizzati dalla presenza di edilizia sociale. Quindi sono pianificati proprio per quello, per ricevere forza lavoro, forza lavoro migrante e sono fatti per quello. Quindi questo è il secondo aspetto che evidenzia una totale assenza dell'azione politica o comunque potremmo dire quasi l'intenzionale assenza di azione politica crea o comunque spinge e produce dei risultati di quel genere. Cioè della forte concentrazione, quindi non è un giudizio ma è una lettura del fenomeno. Una conseguenza di tutto questo e qui ci avviciniamo poi all'intervento di Drive Photo e di altre associazioni ma anche di altri gruppi di artisti che sono intervenuti in questi anni a Prato. Una delle caratteristiche poi che sono conseguenti di questa situazione è che in un quartiere che non è pianificato, che non è fatto nemmeno per la residenza perché fondamentalmente era fatto per la produzione, quello che manca è lo spazio pubblico e cioè quella parte della città che crea la cittadinanza. Perché lo spazio pubblico è quella parte della morfologia urbana in cui le persone si incontrano, si sfiorano, si vedono, si interpretano, cercano di leggere tutti i messaggi, i comportamenti che abbiamo addosso a noi, sia quelli legati al nostro abbigliamento, alle nostre espressioni, alla nostra andatura e così via, cioè tutte quelle componenti della vita sociale che ci consentono di comprenderci e anche di, come dire, di indirizzare i nostri comportamenti in funzione dello scambio e della, diciamo, necessità di confrontarci e di capirci. Quindi, ed è ancora più grave naturalmente se ci pensate perché in un'area di quel genere lo spazio pubblico dovrebbe essere ancora più importante e ancora più presente. Però, in realtà, appunto, siccome serviva quel quartiere prevalentemente al movimento, diciamo, degli automezzi legati allo scambio, al movimento delle merci, al movimento dei lavoratori e così via, non c'era bisogno di avere dei grandi marciapiedi o delle piazze. In realtà, se andate a vedere quel quartiere, i marciapiedi sono imbarazzanti, sono pericolosi perché non consentono, diciamo, nemmeno di muoversi con una certa facilità e di evitare i rischi della mobilità, delle strade, della mobilità su gomma. Quindi, e tanto meno le piazze. Le piazze non ci sono. Infatti, gli interventi che vedrete, che sono stati realizzati proprio dall'iniziativa di Dry Photo e degli altri attori, sono proprio spazi che creano piazze, piccole piazze, spazio pubblico laddove non c'era e per di più, aggiungerei, ma senza, diciamo, togliere nulla dalla sorpresa dell'intervento di Vittoria, per di più creando spazi pubblici in aree che pubblica non sono, perché sono aree private. E questo è un altro aspetto, anche questo contraddittorio, ma anche questo molto interessante, perché tutti i luoghi, tutti gli spazi dove voi realmente potete incontrare i residenti di quel quartiere, sono tutti spazi privati. Quello più famoso, che tecnicamente chiamiamo il passage, cioè una specie di galleria che collega le due strade principali, via Filzi e via Pistoiese, era una sorta di galleria di un negozio importante, di arredamento importante negli anni d'oro del distretto, negli anni settanta, era forse uno dei negozi di arredamento più grandi e più importanti della Toscana. I pratesi erano a quel tempo, i pratesi italiani, dei grandi, diciamo, spendaccioni, avevano molta disponibilità, e quindi gran parte, tutt'oggi, per esempio, l'unica concessionaria di Ferrari in Toscana, credo che sia ancora a Prato, quindi questo è un residuo, diciamo, degli anni d'oro. Però, ecco, questo spazio di collegamento tra le due strade è diventato, negli anni, spontaneamente uno dei luoghi di incontro principali, anche per gli abitanti cinesi del quartiere, assumendo anche delle funzioni molto particolari, perché, essendo appunto un luogo dove la gente si poteva incontrare e scambiarsi informazioni, era diventato poi via via anche un luogo dove si cercava lavoro, si trovavano informazioni sul lavoro, sulle merce e così via, quindi era un luogo di scambio molto importante, ed è diventato poi anche appunto uno degli spazi che Vittoria vi racconterà. Un altro di questi spazi era per l'appunto un parcheggio, quindi era di pertinenza di un supermercato, quindi anche questo è stato ottenuto, diciamo, attraverso un intervento realmente, come dire, attivo e di negoziazione diretta, che peraltro anche questo è una delle funzioni che dovrebbe avere, come dire, la parte pubblica di amministrazione di una città, di negoziazione con gli interessi privati, con le proprietà e così via. E anche in questo caso non è stato svolto, diciamo, dall'azione pubblica, ma bensì dall'azione privata di gruppi di artisti. Quindi questi sono, diciamo, gli elementi che per me sono importanti in questa prospettiva, anche perché, anche nei lavori che citava Alessio prima, in particolare zona di transizione, che è uno dei, diciamo, dei concetti classici della sociologia, dell'antropologia urbana, che abbiamo riutilizzato proprio per cercare di leggere questo tipo di spazi e di quartieri, una delle caratteristiche principali è proprio l'assenza dello spazio pubblico. E questo era uno degli elementi che avevamo messo in evidenza fin da subito, fin da quando abbiamo iniziato a studiare la concentrazione del fenomeno migratorio cinese a Prato in Toscana. Cioè il fatto che appunto mancava lo spazio pubblico e in quel quartiere, oltre allo spazio pubblico, mancavano anche beni collettivi, che sono in sostanza, diciamo, una dotazione sufficiente di scuole, di ambulatori, di biblioteche, cioè di tutti quegli aspetti che creano cittadinanza per l'appunto e che sono utili per favorire l'incontro e la conoscenza tra i gruppi di residenti. Quindi questo è un aspetto importante. Sì, e magari possiamo tornare, non vorrei rubare troppo tempo anche a Vittoria. Prima di parlarvi del progetto di Piazza dell'Immaginario volevo citare due eventi degli anni prima che secondo me sono importanti perché mostrano un po' il percorso per cui siamo arrivati a fare questo progetto e secondo me fanno anche capire che non è un progetto estemporaneo e che la riuscita del progetto è nata comunque da un radicamento e da una riflessione quotidiana di anni all'interno del quartiere che Massimo ha descritto in maniera perfetta. Noi avevamo sede nel centro storico della città di Prato e a un certo punto Andrea Abati, che è uno dei fondatori di Drive Photo, prende studio nella zona del Macrolotto Zero che si chiama quartiere anche se è un po' improprio, però ha proprio le caratteristiche di quartiere. Insomma, io lo sento proprio come un vero quartiere. E quindi inizia con lo studio di Abati, con la struttura fisica, un rapporto di collaborazione e Drive Photo si sposta ogni tanto dal centro della città, dieci minuti a piedi come diceva Massimo, in questa zona, fra virgolette, periferica. Con questo laboratorio, che è a cura di Andrea Abati, lui aveva fondato questo cantiere, il laboratorio, dove praticamente senza dimora fissa era il nome, dove si incontravano professionisti di varie discipline, studenti di scuole di fotografia, artisti, eccetera, e riflettevano intorno ai concetti di abitare lo spazio urbano e i concetti di cittadinanza e di appartenenza. Tutto questo lavoro di questo laboratorio si concretizza poi in una mostra che parte proprio dalla galleria, dal centro, e fa attraverso un passaggio, un percorso in tutta la zona del Macrolotto Zero, con la collocazione di opere e azioni in aiuole pubbliche, in negozi e così via. Poi, all'anno dopo questo laboratorio, accade che l'amministrazione proibisce all'associazione buddista della comunità cinese in Italia di festeggiare il Capodanno con la danza del dragone, cioè il drago non poteva più danzare all'interno delle vie pubbliche. A questo punto i partecipanti al laboratorio senza demora fissa esprimono con una serie di azioni, una serie di azioni di artisti, il loro dissenso. E è quello che mi stupisce sempre. A certe volte l'arte diventa quasi molto più istantanea, veloce, della politica. La politica dorme e l'arte in un secondo produce un'azione. Tant'è che l'anno dopo l'associazione buddista chiede a Dreifoto di fare da mediazione fra loro e l'amministrazione. E' quello che dicevo, cioè, e ci siamo trovati investiti di una cosa che ci ha fatto tanto piacere, però che comunque non era, diciamo, fra virgolette il ruolo di uno spazio d'arte, ma che noi abbiamo solito molto volentieri. La collaborazione con l'associazione buddista è durata dal 2009 al 2013. Per cui tutti gli anni, con vari interventi, compreso un mandato a chiamata di artisti che poi ha fatto una mostra al Museo Pecci, oppure altri eventi, tutti gli anni andava avanti questa collaborazione. e nel 2011 Dreifoto si sposta e prende sede in questa zona, prende sede nello studio di Andrea Abati. A questo, cioè, nel senso che arriva Dreifoto al posto di Abati. Mi spiace, va bene. E con il trasferimento della sede, chiaramente aumenta l'attenzione per questo quartiere, ma più che l'attenzione che c'era già anche prima, cominciamo a sentire vivo il desiderio e la necessità di migliorare il quartiere. E per noi migliorare il quartiere è comunque un modo, sempre usando lo strumento dell'arte, perché è lo strumento che c'è più congeniale, è quello che noi usiamo di solito. Allora andiamo dopo, direi, una pratica di attento ascolto, che durava negli anni, per quello vi ho fatto vedere quei due primi esempi, che sono un po' come due piccoli semi, che poi hanno fatto radici, hanno prodotto le piantine, che poi hanno portato a Piazza dell'Immaginario. Da questo desiderio di migliorare, il desiderio di migliorare la vita nel quartiere, nasce naturalmente non dal rifiuto, ma dall'amore per il quartiere. Per cui, quello che era vissuto come negativo, come contraddizione, era per noi fonte invece di creatività, proprio una spinta alla creazione. E infatti, la zona che abbiamo individuato è quella che descriveva prima Massimo questo passaggio, perché era il luogo più vivo, non del quartiere, ma di tutta la città. Un luogo dove le persone si incontravano, transitavano 24 ore su 24, per tutte le loro funzioni. Cercare lavoro, andare in banca, andare a fare la spesa. E anche se fisicamente erano due parcheggi, uno da un lato e uno dall'altro della città, due parcheggi privati ad uso pubblico, in realtà quella per noi era una piazza. Il progetto è iniziato nel 2014 e è stato affidato alla cura di Alba Brasa, una giovane curatrice spagnola con la quale collaboriamo da tempo e che conosce bene la realtà della città di Prato. Con Alba abbiamo, e anche con gli artisti che sono intervenuti, ci siamo subito trovati di fronte a un problema. Per intervenire, tenendo di conto delle persone che abitavano quei luoghi, avremmo dovuto rinunciare un po' al nostro ruolo e alla nostra autorialità. Cioè, avremmo dovuto comunque cercare di entrare in una relazione profonda con gli abitanti, che era uno dei nostri desideri. E quando abbiamo scelto questo spazio, mi viene sempre da ridire, ma l'ho già detto Massimo, questo discorso degli spazi pubblici che mancano, perché è una cosa fondamentale. E tutto quello che noi abbiamo fatto nasce veramente dalla mediazione fra chi ha uno spazio residuale, che preferisce lasciare incolto, perché non gliene frega niente, e chi invece dentro di sé ha ancora il desiderio di migliorare, di possedere una cosa carina, di fare bellezza. E all'interno di questo scarto si è collocata la nostra capacità di mediazione per farci dare l'uso di questi spazi. In questo parcheggio che vi dicevo siamo intervenuti in questo modo. Questo intervento è proprio... Questo spazio, fate conto, veramente pieno di persone, era anche uno dei luoghi più conflittuali della città, dove i cittadini di origine cinese e gli autoctoni si scontravano in continuazione. Questo muro era usato da alcuni cittadini cinesi come pagine gialle, venivano scritte sopra tutti i numeri di telefono. Allora i gruppi di cittadini italiani andavano lì e li riverniciavano. Quegli altri ce li scrivevano e si montava la polemica e continuavano a discutere di questa cosa. Quando noi siamo arrivati lì i negozianti che sono lì, che sono quelli intorno, scusi il mesticatore, tutti di origine cinese, il circolo Curiel, ci hanno spiegato che comunque le pagine gialle appartenevano a 4 o 5 persone che scrivevano quei numeri e che facevano praticamente un giro di locazione a nero e di prostituzione, ma che loro non volevano e non desideravano quel muro con le scritte e rimproveravano agli italiani di non avere la capacità di usare la mano forte contro chi compie dei reati. Per cui si dovevano, secondo loro, non c'era abbastanza autorità per farsi rispettare. Per questo ci scrivevano. Allora noi a questo punto che all'inizio avevamo pensato di intervenire proprio sui numeri, perché ci piaceva questo muro con i numeri, ci siamo rimessi molto in discussione. Abbiamo chiesto a due artisti che abbiamo chiamato di fare un intervento diverso. E siamo arrivati poi alla pittura, al dipingere questo muro del colore rosso e secondo me questo muro rosso è il simbolo del nostro progetto e di quello che noi intendiamo per lavorare attraverso l'arte nello spazio pubblico. Allora, il muro rosso è un'integrazione di due aspetti importanti nelle due culture. In tutte e due le culture, per esempio, sia nella nostra che in quella cinese, il rosso è un colore che scaccia gli spiriti maligni e è di buono auspicio. Noi da piccolini ci regalavano il braccialettino di corallo contro il malocchio e quindi c'era questo discorso del colore rosso. Il colore rosso porta fortuna anche per i cittadini di origine orientale. Allora noi abbiamo trovato questo incontro però l'abbiamo esternato non con il corallo o con le lanterne rosse ma con un segno contemporaneo fatto da un artista. Quindi il segno del contemporaneo è la parete dipinta di rosso. Quindi, voglio dire, da due elementi di due culture siamo riusciti. L'artista, io sono organizzato, non sarei capace di pensare a tutte queste cose. Cioè, comunque, l'artista è riuscita a dare un segno di quello che può essere il costruire insieme il territorio che abitiamo. Facciamo insieme ognuno di noi con le nostre culture, con le nostre storie, eccetera, comunque abita un territorio e insieme possiamo produrre un nuovo segno. Un segno che ci rappresenta tutte e due. Voco avanti. Ecco, questa è un'altra collocazione sempre in questo parcheggio di questi due artisti di Bleda e Rosa. Vedete quello che vi dicevo, abbiamo cercato di sfruttare gli spazi disponibili che principalmente erano delle pareti. Allora, la mostra si è svolta in Piazza dell'Immaginario da un punto di vista curatoriale ha due aspetti. Uno, rifà un po' la storia di Dry Photo attraverso la scelta di certi artisti fotografi, Barbieri, Basilico, Bleda e Rosa, che comunque lavoravano nella nostra stessa direzione e un'altra parla di alcune azioni fatte in luogo, in loco, in situ e poi dopo della documentazione di queste azioni. Per esempio, questa è l'azione di Pantane e Surace, i primi due artisti che avevamo chiamato a lavorare sul muro. Poi dopo, discutendo insieme a loro di questa contraddizione, di questo fatto di non... Io ero quella che dicevo dobbiamo ridipingere il muro perché i cittadini ce lo chiedono e quindi ho fatto da mediazione fra il curatore e l'artista perché diceva non si può non tenere conto del desiderio dei cittadini e poi però siamo arrivati a quel bellissimo muro rosso che io non avrei mai pensato o avuto il coraggio di fare. Allora abbiamo chiesto a Pantane e Surace di rivedere il proprio progetto e di partire dalla piazza e loro hanno prodotto questi tre ideogrammi, erano tre e si potevano leggere Io ti amo a giro per la piazza e sono stati prodotti direttamente nella piazza con un torchio fatto a terra e con le persone che saltavano sopra. Poi vedrete l'immagine. Questo invece è un gruppo che abbiamo chiamato cioè un gruppo di artisti ucraini in fondo vedete quello lì è il circolo curiel e c'è un'opera di Gabriele Basilico bellissima ecco poi dopo la parte diciamo curatoriale artistica eccetera si sono innescate o comunque noi abbiamo anche aiutato a produrre una serie di piccole azioni cioè per esempio chiaramente di pulizia delle pareti il muro rosso si è dovuto rintonacare ridipingere eccetera perché se no non ci si metteva niente poi abbiamo attivato insieme con i cittadini abbiamo collocato delle panchine per esempio vedete nella seconda ci sono delle panchine c'era un muricciolino e tutte le persone i cittadini gli autoctoni dicevano esci e si stanno tutti seduti per terra non c'era una panchina cioè è bastato mettere due panchine e le persone si sono sedute sulle panchine cioè voglio dire però anche lì era una polemica continua e anche nel passaggio sono state collocate le panchine e delle fioriere in questa edizione gli arredi urbani collocati la collocazione è stata decisa con chi abitava o aveva un esercizio commerciale nella zona per cui loro hanno dato le indicazioni di come metterle e di come posizionarle davanti, dietro, destra, sinistra e questo è stato fondamentale perché praticamente con la loro aiutandoci nella collocazione loro hanno tenuto conto che di lì ci doveva spassare il camion del pesce che c'era necessità di lasciare poco spazio lì perché insomma hanno tenuto conto della logistica dei loro movimenti e quindi queste panchine sono ancora lì completamente intere le due fioriere che ha messo il comune siccome le ha volute mettere come voleva lui dove voleva lui una è morta subito perché e poi una è stata distrutta ma non distrutta consapevolmente con rabbia distrutta perché lì dava noia perché sei in un posto dove vivono delle persone l'intervento lo devi concordare con quelle persone che sanno meglio di me o dell'impiegato comunale che cosa ci si fa in quel posto banalmente delle cose molto banali nello stesso tempo siccome anche lì sulla pulizia c'erano tanti conflitti e discussioni abbiamo attivato con un rapporto di linea 6 la linea 6 è una linea provinciale che dice che puoi assumere una persona per 10 mesi e il comune rimborsa i costi della persona assicurativi eccetera e la persona deve avere queste caratteristiche più di 57 anni senza lavoro da un so quanto tempo senza mobilità senza disoccupazione insomma come dico io una sciagura urbana e a questo punto noi abbiamo assunto Vincenzo De Caro questa persona e lui per 10 mesi ha pulito tutta questa zona la cosa carina è che quando tipo all'ottavo mese gli esercenti hanno cominciato a dire ora come si fa senza Vincenzo noi più di 10 mesi però il fatto è che Vincenzo poi ha aperto un'azienda di pulizia un'impresa individuale un'azienda insomma e lui non solo è rimasto a pulire in questa zona pagata dai commercianti ma ha anche ampliato il raggio d'azione per cui Vincenzo è riuscito ad avere uno stipendio accettabile e quella zona è pulita poi ha piantato delle rose cioè sono state tutte una cosa come voleva lui delle rose non adatte ma però ha piantato delle rose davanti al circolo curia sono iniziati una serie di piccoli eventi letture di libri eccetera poi quella che vi faccio vedere sotto è perché è troppo carina il giorno dell'inaugurazione noi avevamo fatto attenzione a tutte le cose arriva Paolo che era l'istoratore di questa tavola calda arriva con un pennello arancione e un secchio di tinta e lui siccome inaugurava il negozio era andato a dipingere da arancione quello lì quel casottino lì che sembrava un'installazione nostra in realtà era il suo casottino elettrico però racconto queste cose così però in realtà sono veramente un sintomo di come cambia il modo di operare quando te ti sposti fuori nello spazio pubblico cambia se naturalmente sei interessata a fare non un'operazione autoriale di imposizione dove te arrivi lì hai un'opera e la collochi in quel posto lì dove te vuoi fare un evento e lo fai cambia quando te ti poni in dialogo e interazione con le persone e la capacità di riuscita è trovare sempre una mediazione fra un'imposizione un essere accondiscendente devi trovare di volta in volta la mediazione giusta infatti in questi due anni mi è venuto sempre in mente Luisa Muraro una delle filosofie della scuola di Diotima del mio riferimento che diceva l'arte della mediazione e che ha scritto dei bellissimi pezzi sull'arte della mediazione il secondo intervento nell'anno dopo è stato fatto in un'area che avevamo già individuato da tempo perché l'idea era di intervenire in questi piccoli spazi residuali abbandonati pieni di erbacce che cercare di perché il primo era una piazza ma più immaginaria perché in realtà è rimasto parcheggio questo invece che era un parcheggio privato aveva proprio l'aspetto di una piazza intorno non ci sono abitazioni cioè non ci sono fronti di abitazioni ce n'è solo uno e era il parcheggio del supermercato PAM che negli anni era stato lasciato lì un po' abbandonato e quindi era sporco con macchine abbandonate in mariprese insomma le solite cose poi pieno di micro criminalità come succede quando abbandona uno spazio allora noi all'inizio ci siamo impossessati dello spazio e poi dopo averlo ripulito siamo andati a chiedere la possibilità di lavorare in questo spazio facendo la felicità del supermercato PAM che si è trovato uno spazio pulito ha evitato di far portare via lui le macchine e le abbiamo fatte portare via noi insomma e via vedete allora ci sono i retri di quelle case e noi abbiamo lavorato poi lo vedrete anche in altre foto in questa direzione questa volta come vi dicevo siccome non c'erano cittadini proprio lì di fronte che abitavano questa piazza era tutto parcheggio e piccola zona di transito per andare velocemente da una parte all'altra allora abbiamo chiesto a dei professionisti di occuparsi del design della piazza perché a questo punto abbiamo ritenuto opportuno c'era anche era nata anche nel quartiere una nuova associazione che aveva all'interno tre giovani architetti e che si chiama macchina e abbiamo chiesto a loro di occuparsi del design della piazza perché gli elementi di arredo e il design all'interno di questo progetto diventano esattamente importanti come le opere d'arte non c'è un di meno e un di più può essere una cosa più piccola una cosa più grande eccetera e quindi questa volta abbiamo fatto veramente una piazza proprio anche fisicamente poi abbiamo collocato perché segniamo un po' il territorio e quindi facciamo una specie di grande rettangolo abbiamo collocato dall'altra parte della piazza quest'opera di Olivo Barbieri come dicevo prima fa parte della nostra storia lui con Blederosa parla praticamente di luoghi che hanno una funzione per come sono usati questo non è nato come un campo sportivo ma è un campetto che è diventato un campetto sportivo perché è il campino di un oratorio e via e via poi una delle opere che abbiamo collocato nella piazza è stata quest'opera che documenta un'azione di Francis Salis e è strano di Francis Salis abbiamo trovato questa frase che non è direttamente collegata all'opera ce l'abbiamo diciamo collegata a noi perché la frase ci piaceva così tanto che l'abbiamo adottata quasi come slogan perché ci sembrava veramente volevamo che potesse succedere questo e quindi abbiamo fatto questo collegamento oltretutto l'opera di Francis Salis è un video abbastanza lungo dove lui trasporta questo ghiaccio per chilometro e chilometro a città del Messico il ghiaccio si consuma e poi finisce con dei bambini che giocano e nello stesso tempo è il titolo è il paradosso della pratica e quindi un'opera insomma abbastanza particolare da collocare in una piazza e ormai la citazione è diventata quello che vi dicevo che aveva detto Francis Salis automaticamente noi l'abbiamo inaugurata il 26 giugno i primi di agosto tre cittadini ci chiedono un aiuto per organizzare la festa del cocomero e viene organizzata nella piazzetta in maniera autonoma noi di Dreyfoto ovvero io perché erano tutti in ferie e quelli di China ovvero uno di China perché erano tutti in ferie anche loro abbiamo solamente aiutato nell'organizzazione cioè tipo chiamo io la CIA ma proprio cose banali ma è nata questa cosa spontanea che ci ha stupito in una maniera eccezionale intanto i nostri concittadini sono meravigliosi perché hanno detto noi mettere qualche palloncino gli ho detto andiamo a controllare e qualche palloncino era questo enorme welcome e quindi bellissimo e poi ecco guardate che cosa è successo cioè noi non c'entriamo niente noi abbiamo proprio lo dico non per per far vedere che come diceva anche Massimo che lo spazio determina tanto e la responsabilità è dei nostri amministratori urbanisti architetti vari professionisti secondo me e anche cittadini che vogliono sempre costruire tutto invece di farsi un giardino siamo più o meno tutti responsabili di avere poi una città dove non c'è uno spazio pubblico e noi ci siamo divertiti tantissimo anche la PAM era molto contenta perché hanno compratto tutti i sfumidi della PAM quindi stai felicissimo poi ma non solo cioè dopo quella a un certo punto un'associazione ha fatto delle giornate di pulizia dove si incontra in questa piazzetta telefono e chiede ma come si fa per ritrovarsi lì cioè e praticamente tutte le volte perché ancora della PAM questa piazza si telefona il direttore della PAM il passaparola è stato chiamate il direttore della PAM le persone chiamano e lui concede la piazza però per dire è diventata ma in un tempo brevissimo un luogo di incontro di incontro e anche di più questa è la partenza delle manifestazioni e questa è stata una manifestazione sulla non violenza e è stata fatta e sono partite sempre da questa piazzetta che a un certo punto quando è stata finita ha assunto un nome e si chiama Piazza 5 Marzo 2015 il 5 Marzo 2015 è il giorno della tempesta di vento nella città di Prato che ha distrutto non so quanti alberi tetti casi muri storici eccetera e praticamente i materiali che hanno fatto le panchine sono i tronchi degli alberi distrutti da quella tempesta e quindi abbiamo deciso di dare il nome alla piazza Piazza 5 Marzo 2015 le opere nella piazza sono poi quelle che si vede in fondo che si vede poco perché ho cercato di farvi vedere più il luogo che le singole opere perché poi le singole opere uno si interessa può andare a vederle ma il luogo e poi il progetto praticamente è chiaro che è stato fatto perché ci sono questi artisti anche però riguarda più un complessivo che è dato appunto dal processo che metti in moto dalle azioni che vai a fare dal luogo che scegli e così via questo è tutto se avete delle domande mi fate piacere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti